Salve, sono lo Chef Bartolo. In questa serie di video tutorial Parola di Chef vi guiderò alla scoperta del Grand Chef Evolution e di tutte le sue caratteristiche che lo rendono un sistema di cottura davvero unico, in grado di cucinare moltissimi piatti in maniera sana e senza pregiudicarne il gusto. In questi brevi corsi di cucina vi darò tante preziose dritte per prendere dimestichezza con i tempi e le modalità di cottura. Vi aiuterò nella scelta degli ingredienti migliori per realizzare al meglio i vostri piatti. Vi regalerò tante piccole curiosità sugli alimenti e le loro proprietà nutrizionali. Vi racconterò aneddoti particolari legati alla storia del cibo e della cucina, il tutto senza mai trascurare un ingrediente fondamentale, il buon umore. Ogni pillola riguarderà un ingrediente in particolare o un tipo di cottura. Parleremo delle verdure, della carne, del pesce e realizzeremo insieme tante ricette passo dopo passo. Piatti unici, secondi, contorni, dolci ma anche primi piatti. Vi sembra impossibile? Vi sbagliate! Grand Chef Evolution è un grande aiuto in cucina. Tutto sarà più semplice e potrete finalmente liberare la vostra creatività. Ve lo garantisco io! Quindi, parola di chef, che so io!